musica 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 però va beh dopo aver giocato il secondo faccio questa roba qua arrivo da te un po' un giro tuff e così mi fai dai la spazzola eh si vai bene ma in realtà tu quello guarda allora noi siamo qua oh cos'è che bisogna dire guarda è bene se magari facciamo il momento che cadete non vogliamo guardare era stato idiota se devi acquistare lo chiedi per favore invece di più peraltro hai capito che se ti sto dicendo hai bisogno di entrare di sole ok fate voi che dovreste vedere nel senso che così siete ahahahahahahahahah vedete qua ok siamo arrivati qua e lo guardiamo tu ti metti qui così davanti a lui preciso tu sei qui così e tu sei qui così quindi devi stare si perché così non siete a livello ahahahahah era carino se no io mi devo entraggiare e vi fermate così ok mettetevi in posizione come eravate qua quando ok si si non battermelo ok allora spostati Fabio adesso quando dico azione vedete che arriva il tipo spiaggia ok e andate verso di là fate la colluttazione fino al momento diciamo della caduta ok fate 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 Grazie per la visione!